Ciao a tutti, sono Matteo Massironi, psicologo, formatore e RSPP, esperto in behavior-based safety. Oggi voglio parlarvi di un errore comune che spesso vediamo nella gestione della sicurezza e degli incidenti nelle organizzazioni, la reazione impulsiva e punitiva quando qualcosa va storto. Questo tipo di risposta, basata sulla caccia alle streghe, non solo è controproducente, ma può anche essere dannoso per l'organizzazione. Uno degli esperti più importanti in questo campo, il professor Sidney Decker, ha descritto in modo molto efficace questa tendenza, chiamandola management della pipì nei pantaloni. Immaginate un bambino che non riesce a trattenersi e si lascia andare provando un immediato sollievo, salvo poi rendersi conto di essersi bagnato i pantaloni. Allo stesso modo alcuni leader pensano di dover agire in fretta per dimostrare il loro controllo della situazione, ma le loro azioni avventate finiscono per farli sembrare sciocchi e non risolvono i problemi alla radice. Decker suggerisce invece un approccio diverso, una revisione di apprendimento non giudicante, condotta con genuina curiosità e mente aperta. L'assunto di base deve essere che le persone non vengono al lavoro con l'intenzione di fare male le cose. Al contrario, cercano di agire nel modo che ritengono più sensato, date le circostanze in cui si trovano, le informazioni di cui dispongono, le risorse che hanno e gli obiettivi che gli sono stati assegnati. Questo principio, chiamato razionalità locale, dovrebbe guidare ogni indagine sugli incidenti. Purtroppo il pregiudizio del senno di poi ci porta a giudicare le azioni passate sulla base di ciò che sappiamo dopo che le cose sono andate male. Armati della conoscenza dell'esito, ricostruiamo gli eventi unendo i puntini e individuando facilmente dove qualcuno ha sbagliato. Ma le persone coinvolte non avevano questa conoscenza nel momento in cui agivano. Ciò che a posteriori sembra un errore madornale, nel contesto poteva essere una deviazione ragionevole per riuscire a fare il proprio lavoro nonostante vincoli, pressioni e obiettivi conflittuali. Condurre una revisione per l'apprendimento significa quindi sforzarsi di ricostruire il punto di vista di chi era immerso nella situazione, per capire perché certe azioni sembravano sensate in quel momento. Significa sospendere le facili spiegazioni monocausali come era disattenzione, era incompetenza o non hanno seguito la procedura per esplorare il complesso intreccio di fattori organizzativi, tecnologici e culturali che hanno creato le condizioni per l'evento. Significa andare oltre la superficiale caccia al colpevole per scavare a fondo e capire in che modo l'intero sistema ha contribuito a generare l'esito indesiderato. Naturalmente non si tratta di un processo facile, richiede umiltà, apertura mentale e la volontà di mettere in discussione assunti e pratiche radicate. Richiede anche di resistere alle pressioni interne ed esterne che invocano risposte rapide e punizioni esemplari. Ma è l'unico modo per trasformare un fallimento in un'opportunità di apprendimento e miglioramento organizzativo. Altrimenti ci si limita a tagliare le erbacce in superficie senza sradicare i fattori di fondo, col rischio che incidenti simili si ripetano. Una just culture, quindi, non significa assenza di responsabilità individuali. Esistono comportamenti che oltrepassano il limite della ragionevolezza e che non possono essere tollerati. Ma questi sono l'eccezione, non la regola. Nella grande maggioranza dei casi, le revisioni non giudicanti e orientate all'apprendimento rivelano che le persone stavano facendo del loro meglio per far funzionare le cose in un contesto imperfetto. La responsabilità di rendere quel contesto più favorevole alla sicurezza e alla qualità ricade sulla leadership. Il messaggio per i leader è chiaro. Contate fino a 10 prima di puntare il dito. Non cadete nella trappola della risposta impulsiva e punitiva. Iniziate ogni indagine chiedendovi come mai le azioni di quelle persone sembravano sensate in quel contesto. Con pazienza, umiltà e impegno trasformate i fallimenti in opportunità per rendere la vostra organizzazione più giusta e sicura. È una strada difficile, ma è l'unica che porta a un vero apprendimento e miglioramento duraturo.